Un'impresa per molti considerata impossibile ma che il Cus Palermo firma al termine della semifinale di ritorno contro il Canicattì, vince 3-0 la formazione di Ferrara e vola in finale contro una squadra, quella in maglia rossa che ha dato tutto nonostante la certezza dell'eccellenza già derivante dalla vittoria del proprio campionato. Andiamo a raccontarvela con le immagini della Cus Palermo TV che ha festeggiato le 70.000 visualizzazioni per tutti i servizi di questa stagione del calcio. 2016-2017 il Cus passa subito al sedicesimo, Mercanti chiama il movimento a Caronia, nessuno lo segue ed è proprio Mercanti a portare il Cus Palermo in vantaggio, la festa di tutta la panchina per una squadra, quella giallorossonera che ha dimostrato di esserci sin dalle primissime battute. E che in Mercanti ha trovato un vero e proprio trascinatore nonostante un inizio molto difficile causa l'infortunio di Sandello a letto. Ma veramente grande la risposta del Canicattì con Pirrotta che salta tutti, Premuda resta in piedi e compie il miracolo al 27esimo sul conseguente corner, il colpo di testa che fa gridare tutti al gol, quasi 400 gli spettatori oggi in Bialtofonte ma c'è il raddoppio. Al 34esimo Caronia lotta sul pallone, Funari non è perfetto e Mercanti la mette per il 2-0, esplode letteralmente il pubblico di fede giallorossonera e tutti i compagni che vanno a festeggiare Mercanti sullo sfondo Caronia a terra, sfinito e lo stesso Mercanti va ad abbracciarlo perché ha costruito con grande grinta questo gol. Poi ancora Premuda al 40esimo su Pirrotta salva il risultato, andiamo nella ripresa perché Falsone commette un'ingenuità tecnica, possiamo dire così perché la manda alta a un soffio dalla porta. Il Canicattì che ci prova Caronia al 12esimo a giro, quasi sfiora il 3-0. Al 18esimo immischia ancora il Canicattì che tenta di testa ma il risultato non si sblocca al 21esimo. Arena scalda il piede, tiro fuori di poco, al 22esimo la chiamata che fa un po' saltare i nervi per il pubblico Cus Palermo. Mercanti-Ovento non vediamo il momento in cui parte ma il pallone arriva e lui è praticamente in linea quindi probabilmente non c'era. Il gol del 3-0 e viene firmato da Arena che è servito da Mercanti. Vediamo sullo sfondo l'incredibile Capriola di Ferrara, Arena che va a festeggiare un Cus Palermo che lotta, che riesce a resistere, stringe i denti con Mercanti-Arena che trascinano tutti. Caronia per Crampi costretto anche al cambio. E poi c'è questo episodio con Giannello di Messina, il direttore di gara, che la combina veramente grossa. Rovina la finale ad Arnone perché già ammonito, sradica il pallone dai piedi dell'avversario, il direttore di gara subito corre, non ha dubbi e lo manda fuori. Secondo giallo per Arnone che è da tutto e che per questo grave errore arbitrale dovrà saltare la finalissima al minuto 49. Poi guardate cosa combina Rizzo dopo quasi un'ora e mezza di partita. Ne ha tre tra sé il portiere, li salta tutti con una potenza inaudita e poi sfiora il gol. Con un tocco sotto ma al triplice fischio e l'ufficialità, il Cus Palermo va in finale con una gara meravigliosa. La giocherà contro il Real Città di Paternò. La grande festa dei giallorossoneri con il pubblico numeroso a corso oggi. Adesso testa al lavoro settimanale per preparare al meglio la sfida. Finale playoff contro la vincente tra Caccamo e Sant'Angiolese che il Cus giocherà sabato 13 maggio in casa.